Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video dopo aver fatto l'esperimento settimana scorsa di prepararmi tutti gli outfit per la settimana e dopo essermi resa conto che in realtà mi ha aiutato a guadagnare momenti preziosi, minuti preziosi la mattina ho deciso di rifarlo anche per settimana prossima di modo da non dover pensare troppo agli outfit sono fortunata perché questa settimana sembra che il tempo si mantenga comunque bello quindi non pioverà, ci sarà il sole, magari farà un po' freddo però per quello basta vestirsi bene, basta coprirsi bene come dicono in Svezia, non esiste un clima brutto, esiste l'abbigliamento non adatto e quindi oggi voglio organizzare insieme a voi tutti gli outfit della settimana ma rispetto alla settimana precedente in cui proprio mi sono detta che cosa indosserò da lunedì al venerdì giorno per giorno questa settimana voglio essere un pochino più free e decidere soltanto 5 outfit quindi potenzialmente da lunedì al venerdì ma da scegliere in base al mood e alla giornata in base a quello che devo fare durante la giornata perché anche se alcuni giorni sono già ben definiti altri per questa settimana che sta arrivando non lo sono e non so bene quando dovrò fare delle riunioni, degli appuntamenti per cui ci sono degli outfit che possono essere adatti per giorni normali in ufficio mentre ci sono degli altri outfit un pochino più ricercati che possono servire per gli appuntamenti o per le cole un pochino più particolari o comunque per incontri con i clienti o i fornitori e quindi in questa ottica qui ho fatto una selezione di outfit che indosserò questa settimana ma non ho deciso ancora quale outfit e quale giorno se non quello di domani che è lunedì il mood del video è comunque quello di tirare fuori i capi che non indosso da parecchio tempo almeno dalla settimana a due come in questo caso questo vestitino qui che in realtà non sto tipo indossando non vorrei dire un'eresia però se non è un anno sicuramente almeno due mesi perché questo insieme all'altro mio vestitino all black little black dress in lana invernali li tengo un po' per giorni un pochino più particolari però quest'anno ho deciso che non lo farò più perché poi rischio di tenerli nell'armadio e non dargli abbastanza amore e attenzioni e quindi per domani abbiamo questo vestitino qua in lana è bellissimo è di cos guardate la trama di questo vestito è stupendo è veramente bellissimo e probabilmente mi direte ma è a maniche corte non importa perché essendo in lana è molto caldo e il discorso è comunque che indosso un body sotto per tenere la pancia coperta tutto il corpo sotto coperto un paio di collan e poi il vestitino sopra e in ufficio comunque mi porto una pashmina di modo da poterla indossare se proprio mi viene freddo durante la giornata però non credo che succederà insieme a questo vestitino ovviamente ci va il cappotto lungo nero e gli stivali lunghi e vi voglio dire questo quel giorno che ho deciso di acquistare il cappotto nero in lana lungo taglio classico è stato il giorno in cui ho avuto l'illuminazione più grande di tutti i tempi per me perché veramente lo sto sfruttando talmente tanto che il costo si è già più che ammortizzato è proprio costa niente per quanto l'ho indossato e per quanto lo sta indossando anche mia sorella è uno di quei capi che bisogna avere nell'armadio perché lo si sfrutta veramente tanto anche io che magari non indosso tantissimo nero anche se oggi sembra il contrario ma di solito preferisco comunque variare spaziare tra i colori il cappotto nero si abbia con un sacco di cose per cui è veramente un acquisto super necessario l'outfit numero 2 è composto da questi pantaloni in vellutino sono quelli di cider e questi li sto indossando perché mentre ci sono capi che non indosso da parecchio tempo perché magari lo indossati e sfruttati tanto nel tempo succede il contrario con le cose nuove quando ho qualcosa di nuovo lo indosso non stop tipo questi pantaloni qua che sono veramente bellissimi perché sono lunghi a palazzo e vanno sopra le scarpe mi piace un sacco questo stile qua ma poi sono anche comodi quindi sono eleganti e comodi sono la perfezione per me e poi abbinati a questo maglioncino lilla perché lo sto adorando anche questo è un'aggiunta recente nel mio armadio e quindi lo voglio sfruttare un pochino di più finché non è ancora arrivata la primavera perché sembra che sia alle porte e io quando cominciano a salire un po' le temperature faccio fatica a vestirmi troppo pesante già adesso sto andando in giro mezza nuda per modo di dire però sto indossando questo vestitino nero è lungo e è di mia sorella non è mio però cioè è bellissimo è leggerissimo tra l'altro in cotone a coste però non sto nemmeno indossando i collant perché di nuovo questo con il cappotto nero sopra è perfetto e questo è stato l'outfit della domenica perché non ha ancora visto il video precedente mancava appunto l'outfit della domenica e non ho indossato il maglione lilla per cui l'ho riproposto in questa settimana qui tra l'altro ho pubblicato anche un recap con gli stessi outfit su instagram per cui andate a vedere anche lì che cosa sto combinando giorno per giorno tornando al maglione lilla qui ci abbino ovviamente le timberland perché le timberland sono caldissime e sono assolutamente adatte per questo pantalone qua perché essendo comunque dei scarponi un pochino più rialzati mi permettono di indossare questo pantalone che è lunghissimo senza doverlo accorciare e a volte io preferisco vi dirò la verità perché comunque quando le accorcio troppo non lo so mi danno con la sensazione di accorciarmi la gamba per cui il pantalone più è lungo più a vita alta più mi allunga la figura outfit numero 3 abbiamo un paio di pantaloni jeans apparazzo gamba larga quindi vita altissima che io adoro ma che non sto indossando da un po' perché appunto avevo incluso un po' di cose nuove nell'armadio per cui questi sono rimasti un po' lì dimenticati e anche questa camicia qua che di solito indosso più in estate è una camicia a reghine verticali blu e bianche ed è oversize tipo boyfriend style è bellissima e ovviamente per non morire di freddo abbiamo questo cardigan in lana ormai lo conoscete benissimo questo è un cardigan chunky stupendo beige a questo ci abbino un paio di scarpe da ginnastica possono andare bene le adidas campus in uno dei colori dell'outfit oppure un paio di superga con il platform quindi con la suola un pochino più alta o anche gli stivaletti timbrelant perché no possono andare benissimo anche loro ci abbino poi la borsettina chiara in questo caso questa qua oppure se metto una scarpa un pochino più chiara useremo questa borsettina qua che è di mia sorella e l'outfit è pronto cappottino in lana e l'outfit è completo tra l'altro per questa settimana appunto ho deciso proprio di decidere già in anticipo anche i cappotti da indossare gli accessori perché tipo settimana scorsa non avevo deciso gli accessori e sono andata in giro tutta la settimana con solo lo zaino perché non avevo tempo mai di prepararmi la borsetta o pensare che cosa mi serviva e quindi non l'ho mai usata e questa settimana invece non succederà poi il cappotto invece mi conviene deciderlo in anticipo perché poi se non lo decido già prima mia sorella rischia di prendere il cappotto che serve a me o il contrario quindi così ci possiamo già spartire le cose che servono a me e che servono a lei durante la settimana di modo da non doverci preoccupare di rubare l'idea di outfit l'una dell'altra un quarto outfit e questo probabilmente lo indosserò a martedì perché perché martedì è San Valentino e voglio portare un po' di cuore in ufficio questo l'avete già visto è quello di cider morbidissimo e il colore è stupendo veramente una meraviglia manichine a sbuffo tanti cuori sotto invece un paio di pantaloni sempre larghi a palazzo però in questo caso un pochino più corti per uno stile un pochino più casual un pochino più smart e insieme a questo maglione saranno l'outfit perfetto per affrontare il martedì vi ho già detto nel video precedente io col martedì ho un rapporto un po' particolare per cui voglio sì fare tante cose però con calma quindi devo indossare proprio l'outfit giusto per non farmi prendere dalle ansie anche in questo caso userai la borsettina beige di Zara e il cappotto in lana corto in questo caso è un pochino più interessante a livello di colori arriviamo infine all'ultimo outfit che vi voglio far vedere e questo è appunto un outfit elegante perché probabilmente questa settimana dobbiamo incontrare un nostro cliente quindi devo indossare qualche cosa di più elegante abbiamo in questo caso un paio di pantaloni a palazzo a quadratini piede pull meglio detto un top nero basic e poi un blazer che richiama uno dei colori dei pantaloni e anche questo outfit è pronto in questo caso indosserò comunque il cappotto nero ma sta bene anche l'altro però preferisco il nero così giusto da dare un po' di stacco dalla fantasia dei pantaloni borsettina anche in questo caso devo decidere se quella marrone oppure quella nera però probabilmente prenderò quella marrone che è più capiente e ci possono stare dentro più cosine basta direi che è tutto per il video di oggi non ho scelto l'outfit per il sabato nemmeno quello per la domenica perché non so ancora che cosa farò dove andrò e chi incontrerò per cui mi lascio la libertà del momento e per quegli outfit venite appunto su instagram perché lì faccio vedere giorno per giorno che cosa indosso esattamente e anche se c'è qualche twist lo vedrete su instagram non farò più qui il real time outfit perché ho notato che mi viene davvero difficile perché io veramente ci provo ma ormai devo accettare che non è possibile provo ad andare a letto presto ma finisco sempre per andare a letto molto tardi la mattina mi alzo presto però comunque devo fare tutta una serie di cose e alzarmi ancora prima non aiuterebbe perché se sono settata sul fare una serie di cose faccio quelle cose lì e anche una sola cosa in più mi scombussola troppo la mattinata e quindi in real time su instagram basta è tutto per oggi grazie di essere passati di qui ci vediamo come sempre per la prossima settimana con un nuovo video ma fino ad allora prendetevi cura di voi ciao